Grande successo per la cerimonia alle fonti Day & Night tenutasi lo scorso giovedì 8 novembre a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata, introdotta da un keynote speech del noto giornalista e scrittore Alan Friedman, ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore si sono confrontati riguardo alle sfide delle Char Manager 4.0, l'evoluzione del lavoro nel terzo millennio, il Jobs Act e il Decreto Dignità. La sera ad aprire la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, come competere in un mondo che cambia. Il dibattito moderato dalla giornalista Deborah Rosciani ha coinvolto esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. Eccellenza dell'anno, innovazione, ingegneria e progettazione, il premio viene assegnato a ETS! Per essere un leader nel settore dei servizi di progettazione di infrastrutture complesse e servizi di diagnostica, per dare il giusto valore ad ogni singolo cliente e per offrire servizi studiati nei minimi dettagli, sviluppando soluzioni sempre innovative e utilizzando tecnologie all'avanguardia. Eccellenza dell'anno, innovazione, ingegneria e progettazione. Bravi, complimenti! Ingegner Domenico Chiaino, la società ETS si è giudicata e le fonti awards 2018 come eccellenza dell'anno, innovazione, ingegneria e progettazione. Come commenta questa vittoria? In primis vorrei rivolgere un ringraziamento particolare agli organizzatori dell'evento. Per noi è un piacere essere presenti qui in questa serata come finalisti. Avere ricevuto il premio poi rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, sia per me che per tutti i componenti del team che stasera rappresento. E' l'evidenza che grazie alla loro dedizione, al loro impegno continuo, certi successi possono essere raggiunti. Questo non è ovviamente un traguardo, bensì una conferma per come stiamo operando, un'iniezione di fiducia, un ulteriore stimolo per il continuo miglioramento. Cos'è l'innovazione per ETS e che impatto ha sulla gestione dei vostri progetti? L'innovazione in ETS oggi permea ogni settore aziendale. E' una costante trasversale, una sorta di denominatore comune che sta alla base delle attività di ciascuno di noi. Innovazione tecnica, innovazione tecnologica a servizio dei progettisti, innovazione anche in termini di gestione di processo e di know-how. Un'innovazione che passa anche attraverso partnership con associazioni, enti, università, centri di ricerca di tipo proficuo e continuo, che servono per approfondire e sviluppare tematiche proprie dell'ingegneria civile e anche per individuare le possibili migliori soluzioni in risposta alle esigenze specifiche del cliente. La vostra attività risulta essere innovativa e tecnologica nel settore dei servizi di progettazione di infrastrutture complesse e servizi di diagnostica. Qual è il valore aggiunto che siete in grado di offrire e quali sono i vostri progetti futuri? Oggi siamo consapevoli di poter affrontare sfide più ardue e siamo coscienti di ciò che sappiamo offrire. Una progettazione integrata, beam oriented, a servizio del cliente, ma mettendo il cliente, la sua prospettiva e le sue esigenze già da subito al centro del percorso progettuale. Per il futuro vedo un'azienda che possa coniugare la diagnostica e la progettazione in modo da poter valutare e minimizzare i rischi che gravano sulla costruzione e manutenzione delle opere che progettiamo. In sostanza una azienda che pensa di come progettare meglio. In buona sostanza noi vogliamo essere non solo conosciuti per ciò che progettiamo, ma anche e soprattutto riconosciuti per come progettiamo. Banki 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 Grazie a tutti.